Ciao Arturo, bentornato ad Appiano, come sono andate le vacanze? Ciao, alla grande, ho fatto una vacanza bellissima, è stato un lugare bellissimo, assicché sono molto felice e torno al massimo. Sei stato impegnato in Coppa America, vinta dal tuo amico e compagno Lautaro, vi siete sentiti dopo il successo? Sì, sì, abbiamo giocato la Coppa America con il Cile, abbiamo fatto una bella Coppa, abbiamo perso con il Brasile, e sì, ho parlato con Lautaro prima alla finale e dopo, penso che è troppo importante lo che ha fatto lui, ha vinto una Coppa con l'Argentina che è stato tanto tempo che non vincevano niente, quindi questo per lui, per la sua carriera, è troppo importante, assicché le ha dato il massimo di felicità a lui e alla squadra, assicché sono contento per lui. Allora, hai ritrovato un po' di compagni, hai conosciuto anche il mister Inzaghi e il suo staff, quali sono le primissime impressioni? Sì, ho conosciuto il mister, sono già tre giorni che parlo con lui, penso che è un allenatore importante, un allenatore che parla bene, ti fa sentire bene alla squadra, anche i compagni che hanno parlato, mi hanno detto che sono contento, si sta lavorando bene, si sta lavorando forte, quindi questo è importante perché quest'anno dobbiamo fare un bel campionato e una bellissima Champions. Quanta voglia c'è di tornare in campo? Tantissima, tantissima. L'anno scorso ho avuto un anno non tanto bello per me, ho perso l'ultimo due o tre mesi, non ho giocato col problema, quindi questo anno voglio stare al 100%, farmi sentire, far sapere a tutto il mondo che ne vi dà per quello che sono qua, anche con la squadra abbiamo parlato, con la società, siamo un bel rapporto, loro hanno tanta fiducia in me, anche io e loro, per quello che quest'anno deve essere il migliore, il Vidal che tutti conoscono, quindi sono al 100% e quindi voglio lavorare al massimo. Quindi questi immagino siano gli obiettivi per la prossima stagione. Sì, questo è l'oggettivo di questa squadra, l'anno scorso abbiamo vinto un scudetto, per questo anno dobbiamo andare per un altro scudetto e per andare per la Champions, arrivare fino al fondo. Grazie, bentornato. Prego, grazie.